Nasce una nuova opportunità per tante persone in difficoltà alla ricerca di un lavoro. In via Oberdan 117 a Taranto, cooperativa sociale Onlus Reinserimento, che si occuperà di vari servizi, pulizie, custodie, trasporti e traslochi, piccoli lavori edili, manutenzione di immobili e tanto altro ancora. Comuni, parrocchie e denti di varia natura sono invitati a collaborare per ridare speranza a chi è in condizioni di disagio fisico e sociale. Cooperativa sociale Reinserimento. Per informazioni 327 419 7542 in collaborazione con Edil Leone e Tipografia Desico.